Improvvisava più volte ricerche archeologiche illecite e non autorizzate e si impossessava di reperti che poi si portava a casa. E quanto appurato nel pomeriggio di lunedì nell'area archeologica di Forum Semproni, dove i carabinieri di Fossombrone e il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Ancona hanno sorpreso un ventottenne del posto intento a svolgere attività illegali di ricerca e impossessamento di beni culturali con l'ausilio di metal detector e altri specifici strumenti per la ricerca di metalli in un'area archeologica dichiarata protetta. Insospettiti dalla presenza dell'uomo in quella zona, i militari dell'arma hanno infatti subito proceduto ad un controllo e hanno rinvenuto nella disponibilità del ventottenne numerose monete e altri frammenti in metallo e ceramica. Altri beni dello stesso tipo sono stati poi trovati anche nell'abitazione dell'uomo, verosimilmente frutto di altre analoghe battute di ricerca. Tutti i beni archeologici recuperati dai carabinieri sono stati posti sotto sequestro insieme agli strumenti utilizzati dall'indagato per individuarli e scavare. Il ventottenne è stato denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Urbino e ora dovrà rispondere di ricerche archeologiche non autorizzate, furto di beni culturali nonché distruzione di beni culturali. Non solo, in virtù della recente normativa, l'uomo rischia una pesante sanzione amministrativa per aver distrutto con la sua attività di scafo la stratigrafia in cui giacevano i beni archeologici.